Sino al 2020 la Jaguar lavorerà per avere una variante elettrica di tutti i suoi modelli allo scopo di rispettare le normative in fatto di emissioni. L'annuncio è giunto durante il Techfest 2017 in corso a Londra, evento che approfondisce il ruolo della tecnologia nel processo di trasformazione dell'industria automobilistica. Guardiamo due diverse tendenze, una è la tutela dell'ambiente per illustrando aree in cui i motori a combustione potrebbero essere vietati in futuro, quindi sarebbe triste non vedere più questi veicoli. L'altra è che un sacco di persone amano le automobili classiche ma vogliono un differente livello di convenienza. La Jaguar ha espiantato il motore V12 da una E-Type degli anni 60 per trasformarla in un'auto elettrica e il risultato è la E-Type Zero, nome che evoca il concetto di emissioni zero con un motore elettrico di circa 300 cavalli che raggiunge i 100 chilometri all'ora in 5,5 secondi e un'autonomia di 270 chilometri.